quindi ragazzi stavo dicendo vettori importanti perchè la bosnia è una squadra ostica e niente che dire quindi bottino pieno, punteggio pieno però nel nostro girone e niente che dire per il resto avanti così ditemi che partita avete visto noi ci vediamo al prossimo video ah ragazzi un'altra cosa Mancini ha inoltre provato anche l'attacco a tre con Bernardeschi chiesa in signa, non ha funzionato poi ha messo bell'ottico comunque ditemi se mi è piaciuta Dzeko mi è piaciuto della Bosnia mi è piaciuto molto Dzeko che ha lottato si è fatto anche male tra l'altro ha segnato insomma ripartiva bene faceva il pallone, faceva assedire la squadra c'è nel prossimo video bella disegno che partita avete visto questo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti